Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui in questo nuovo video per parlare del cuore Napoli Basket che ha giocato la sua ultima partita sabato e purtroppo ha perso ancora per 87 a 72 parziale di 15 punti contro il Bertram Tortona e quindi arriva la sesta sconfitta consecutiva dopo le prime sei giornate di campionato. È stata una partita dove più del solito abbiamo sprecato davvero tantissime azioni d'attacco, abbiamo sbagliato davvero tantissimo. Ha giocato molto bene, è stato quello che ha fatto più punti, addirittura 27 punti, il nuovo arrivato, cioè Basebe, un americano che sembra davvero molto forte. Poi ha fatto un'ottima partita anche Carter siglando 12 punti ma il resto hanno sbagliato davvero molto. Nel primo quarto è stata piuttosto equilibrata la partita, si è conclusa con soltanto due punti di vantaggio per il Tortona però poi negli altri quarti il Tortona ha cominciato a prendere il largo soprattutto nel secondo e nel terzo il parziale si era fatto anche superiore ai 15 punti però poi alla fine siamo riusciti a recuperare qualcosa e comunque si sapeva che anche questa non sarebbe stata una partita facile. C'è stato uno sfogo anche da parte del presidente Ciro Ruggiero dicendo che la squadra non ci sta mettendo il cuore dicendo anche che ormai gli acquisti sono stati fatti, la squadra è completa e quindi ora non vuole perdere più giustamente e sono d'accordo con lui ora è arrivato il momento di cominciare a fare punti perché gli acquisti sono arrivati cioè Mascolo, Sorrentino che è un giocatore di una certa esperienza poi Carter che davvero sembra molto forte anche Basebbe sembra piuttosto forte ed è appena arrivato quindi la squadra è fatta secondo me il problema principale è che questa non è ancora una squadra perché sono tanti giocatori che non hanno mai giocato insieme dalla scorsa stagione sono rimasti soltanto Maggio e Nikolic mentre gli altri sono andati tutti via la prossima partita sarà contro la Virtus. Roma al Palabarbuto e sarà una partita assolutamente da vincere la Virtus. Roma si trova a 4 punti quindi potrebbe essere una concorrente per la salvezza quindi ormai si è capito che l'obiettivo per quest'anno deve essere quello della salvezza mentre poi dalla prossima stagione si vedrà innanzitutto dobbiamo pensare a salvarci quest'anno perché retrocedere in Serie B sarebbe come perdere tutto quello di bello che è stato fatto con la promozione in Serie A2 la scorsa stagione Serie A2 che comunque non è per niente un campionato facile si sapeva che visti i vari infortuni e visto che siamo una squadra nuova le prime giornate potevano andare così però ora come dice il presidente Ciro Ruggiero bisogna mettere cuore in campo come il nome della società e cominciare a fare punti detto questo ragazzi io vi saluto noi ci vediamo alla prossima e sempre Forza Napoli